Oggi bigliettini di Natale Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Nuovo video creativo sfruttando sempre la pasta di glitter La cui ricetta troverete qui nel mio libro Il ricettario dell'arte Oramai sono sicura che molti di voi ce l'hanno Se non lo avete ancora fatevelo regalare per Natale Perché in questo libro troverete tutte le ricette per creare i materiali creativi E tra le tante ricette troverete anche quella che utilizzeremo per questo tutorial In alternativa alla ricetta che c'è scritta sul libro Che non vi svelerò in questo tutorial Ve ne do un'altra per fare la pasta di glitter Potete usare anche una parte di glitter Di polvere di glitter E due parti di colla vinilica Vi lascio il link del video dove faccio questa pasta Qui giù nell'info box La pasta di glitter che invece ho messo nel libro È una pasta di glitter ancora più luccicante Ancora più professionale Diciamo che dà un finish veramente ultra brillante Ma anche questa fatta con la vinavil Si difende molto molto bene E poi è più agevole Perché tutti abbiamo in casa della colla vinilica E allora prima di continuare Clicca su iscriviti Piggia la campanella per non perdere i prossimi video Soprattutto assicurati di essere iscritto a Facebook, Youtube, TikTok, Instagram E adesso spostiamoci di là E andiamo a vedere il bigliettino di Natale più sbrillucicoso del mondo Come si fa Per questo lavoro useremo i glitter color Di cui troverete la ricetta Esattamente qui nel libro Il ricettario dell'arte Con il glitter past faccio anche un bigliettino di Natale Perché naturalmente Il materiale che avanza Non va assolutamente buttato via Quindi prendo un cartoncino verde Creo due biglietti Non mi interessa che la sfrangiatura qui sia brutta Perché anzi mi piace Che siano assolutamente sfrangiati Fatti a mano Passo così E li sfrangio ben bene Prendiamo uno stencil Ok lo attacco un po' così di sbiego Prendo Il glitter color E lo passo su tutto E siete pronti per la magia Ed ecco qua il primo biglietto per Natale Bell'è pronta Non è bellissimo Ed è ancora bagnato E guardate che bello Non potete immaginare quanto sbrillucicherà Una volta asciutto Ma ve lo farò vedere dopo Ne faccio un altro Per il secondo bigliettino Facciamo qualcosa di meno natalizio Diciamo meno tipicamente natalizio Ma che con i colori richiami Semplicemente All'eleganza del Natale Vediamo un po' Ho preso questo Perché è un decoro abbastanza sottile Voglio vedere Se il mio glitter color ce la fa Eh sì ce la fa Oh meraviglia E senza fare danni Cerco di chiudere Tutto Il biglietto Lo sto facendo adesso Perché ci siete voi a guardare Se no avrei fatto asciugare il biglietto E poi avrei stampigliato Queste due mezze forme Basta Aliminiamo Voilà Ci siamo riusciti Ditemi se non è bellissimo Aspettiamo che si asciughino Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Visto che belli i nostri bigliettini Guardate come luccicano Già con questa ricetta Vengono meravigliosi Con la ricetta incluse nel libro Vengono ancora più specchianti E sbrilluccicanti Allo stesso modo Potete preparare dei bellissimi tag Per i vostri regalini In un attimo Oppure da regalare Come regali super low cost Dei bellissimi segnalibro Guardate che eleganti E guardate che belli Cioè Voltate questi tutorial Non soltanto all'oggetto di per sé Al libro Ma fatelo vostro E create tutto quello Che la vostra fantasia vi suggerisce E allora Lasciatemi un pollice in su Se il video vi è piaciuto Una condivisione Se volete far conoscere Arte per te in giro Io vi ringrazio enormemente Di questo Auguro a tutti Una brillante preparazione Al Natale Che questo Natale Porti a tutti Scintille di felicità E di grande luminosità interiore Mi raccomando Vi aspetto in libreria Con il ricettario dell'arte Edito da Gribaudo Trovate il link Per l'acquisto online Qui giù in infobox E in infobox Vi lascio anche il libro Su come creare da soli Gli stencil Qualora Non aveste la possibilità Di acquistarli O le vostre cartolerie Non fossero così fornite In modo da Prendere Qualunque immagine Da internet E poterla trasformare In un pratico stencil Da utilizzare Per creare I bigliettini di Natale Buona preparazione al Natale Con Arte per te E i miei tanti video Vi lascio le playlist Qui sotto E noi ci diamo appuntamento Sempre qua Per un prossimo video creativo Da Ombretta Ed Arte per te è tutto Alla prossima volta Ciao Alla prossima Grazie a tutti.